buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv iniziamo insieme come tutti i giorni la giornata dando un'occhiata ai giornali per vedere le notizie del giorno le notizie che sono verificate nella giornata di ieri e quindi pubblicate dal resto del carlino e dal corriere adriatico bene passiamo però prima per l'almanacco del giorno e vediamo il santo di oggi un santo molto conosciuto e santa lucia eccola la protettrice degli occhi santa lucia visse nel terzo secolo nacque a siracusa e fu martirizzata fu martirizzata su denuncia di un suo pretendente che lucia aveva rifiutato perché aveva fatto voto di castità e questo pretendente la portò davanti al proconsole pascasio che la condannò alla decapitazione dopo molte torture si dice che a lei furono cavati gli occhi per cui è venerata in modo particolare appunto come protettrice della vista ed eccola santa lucia un nome ancora molto molto diffuso oggi e nel tutto in tutta italia non solo appunto in sicilia e vediamo le previsioni del tempo oggi sulle marche cieli in prevalenza nuvolosi per l'intera giornata i venti saranno al mattino forti da sud e sud ovest al pomeriggio tesi da sud ovest il mare è poco mosso le temperature 8 o no anzi 10 la minima 18 la massima e il sole solgerà tra breve alle 7 e 29 e tramonterà alle 16 e 28 i giorni ancora si stanno accorciando fino al 21 dicembre poi vedremo come si allungheranno minuto per minuto anzi secondo per secondo ed ora abbiamo sulla nostra scrivania la prima pagina di fano del resto del carlino dove l'apertura è dedicata al rinvenimento di un uomo scomparso purtroppo deceduto spunta un corpo nel bosco ed è il pizzaiolo scomparso che tutta italia cercava si tratta di maurizio cesaroni che era era uscito dall'ospedale che era nei pressi manca solo l'esame del dna ma è certo è certo che le i resti sono i suoi dato che lì vicino è stato trovato un borsello con i suoi documenti il cadavere trovato da un cacciatore a castaccolo era finito anche su chi l'ha visto quindi era una notizia la sua scomparsa che era stata diffusa in tutta italia maurizio cesaroni i documenti trovati all'interno di un portafoglio che giaceva poco lontano da quei resti umani il cacciatore ha trovato prima un teschio e quindi ha denunciato tutto ai carabinieri che sono intervenuti e poi lì nei pressi hanno trovato altri resti si tratta dei resti delle ossa riconducibili ad arti superiori e inferiori poi c'era anche uno scarponcino da trekking con all'interno le ossa del piede una maglia e un pantalone presumibilmente di colore scuro e un marsupio tutti questi indumenti erano uno stato veramente ormai molto molto degradato per cui era difficile individuarne anche il colore ebbene il 68enne fanese pizzaiolo in pensione conosciuto molto molto in città di Fano era il protagonista è stato il protagonista di una storia di disagio economico e sociale che anche il carlino aveva raccontato per la prima volta nell'estate del 2016 ebbene purtroppo era un dissesto economico che aveva provocato anche la privazione della casa alla famiglia del Cesaroni c'era Equitalia che insomma aveva preteso il pagamento di debiti la famiglia non aveva soldi e quindi ha dovuto dare tutto quello che aveva così tutta la famiglia la moglie e il figlio due figli anzi erano stati costretti a dormire in macchina una Ford Mondeo station wagon parcheggiata all'interno dell'ex caserma Paolini insomma una storia molto molto pietosa che purtroppo è finita tragicamente l'uomo era caduto in disgrazia a giugno fuggì dall'ospedale di Urbino ed ora è stato ritrovato cambiamo argomento e parliamo di sport parliamo di sport nel senso delle infrastrutture qui abbiamo la fotografia del vice sindaco cristian fanesi che si sta occupando della riqualificazione dello stadio mancini e c'è un provvedimento che ha suscitato le reazioni della lega ovvero la possibilità un'ipotesi di concedere in project financing con un impegno economico da parte del comune di fano di 500 mila euro all'alma juventus per quanto riguarda la gestione del campo dei militari una ipotesi che la lega contesta dice brandoni il segretario della lega questo progetto questo progetto non piace se le modalità fossero confermate si tratterebbe di un project financing in cui l'ente comunale dopo aver già messo a disposizione ingenti risorse pubbliche 290 mila euro per la sistemazione degli spogliatoi si impegnerebbe ulteriormente per la sua parte con una cifra che si aggirerebbe intorno ai 500 mila euro lasciando al privato la gestione di tutto l'impianto per 20 anni insomma questo non va bene dice brandoni e restiamo nel campo dello sport perché c'è il annuale riconoscimento del panathlon club di fano per quanto riguarda le categorie del fire play ovvero quel senso di concepire lo sport in senso altruistico in senso diciamo così equilibrato non un agonismo acceso ma un agonismo che rispetta l'avversario ebbene i premi quest'anno verranno consegnati a terrenzi barbadoro e sabatini beatrice terrenzi direttore tecnico della nazionale di pallacanestro sorde dal 2011 e grazie alla sua dedizione è una combinazione di competenze tecniche leadership passione ebbene ha ottenuto veramente dei risultati prestigiosi poi per la carriera è stato verrà consegnato il premio a massimiliano barbadoro massimiliano barbadoro è un collega giornalista che ha veramente degli incarichi importanti come ufficio stampa per l'alma juventus per l'aurora fano ginastica ritmica fano rugby e poi vediamo ancora il marco gaggi che è il pilota del superbike e per l'ultimate frisbee fano ebbene insomma veramente ce n'ha di tutti gli sport quindi è un giornalista eclettico che non si occupa solo di calcio ma veramente dedica la sua attenzione a tanti tanti altri sport anche meno conosciuti e meno praticati e poi ancora il premio speciale fire play a Matteo Sabatini Matteo Sabatini è un nuotatore rispettoso delle regole e con responsabilità e dedizione costituisce un esempio per tutti i suoi compagni quindi tre campioni dello sport anche se non sono direttamente praticanti però insomma sono un esempio da segnalare in modo particolare per i più giovani il Panathon premia giriamo ancora la pagina e parliamo del teatro romano perché questa è veramente una notizia sensazionale pensate dopo oltre vent'anni finalmente c'è un qualcosa di concreto per la fruibilità a favore di tutta la città del teatro romano questa reliquia del passato che c'è stata tramandata che ancora non è resa fruibile ci sono state traversie c'è stato il problema dell'acquisizione dell'area da parte dell'amministrazione comunale le trattative con la società proprietaria la possibilità di avere di fondi ebbene i fondi ora ci sono il comune di Fano si è giudicato un bando di oltre 6 milioni di euro con il quale potrà sono delle tranche che verranno date nel corso degli anni che potrà appunto sistemare tutta l'area archeologica del teatro romano e realizzare finalmente quel polo museale che potrà mettere in evidenza soprattutto la Fano di Vitruvio e anche il Lisippo perché il Lisippo insomma è in simbiosi con la città di Fano teatro romano 6 milioni per rinascere in titola il resto del Carlino Fano si aggiudica maxi finanziamento ministeriale ci faremo il nuovo museo di Vitruvio e la riqualificazione dell'ex Filanda Bosoni che appunto ospiterà il museo e si faranno anche ulteriori ricerche perché il progetto prevede sette sondaggi su quell'area che divide il teatro romano dal criptoportico del tempio che si nasconde sotto Sant'Agostino che cosa si nasconde lì sotto occorrerà accertarlo ebbene tutto questo progetto tutto queste intenzioni sono state illustrate nella giornata di ieri nel corso di una conferenza stampa e ha tenuto il sindaco Massimo Seri con il consigliere comunale delegato Stefano Marchegiani e l'assessore alla cultura Cora Fattori ed ora passiamo a San Costanzo e parliamo di un artista molto molto conosciuto si tratta di Agra un artista un artista io oserei dire naif ma nel senso più nobile di questa parola la storia dipinta nuova maxi opera di Agra Agra ha già realizzato un maxi dipinto che narra la battaglia tra cartaginesi e romani ed ora questo episodio lo ha ritratto in un casolare lo vediamo qui in questa fotografia in un casolare in una facciata di un casolare lunga 30 metri quindi veramente un dipinto eccezionale e qua vediamo gli elefanti vediamo i soldati romani che combattono con i cartaginesi per una pagina di storia che viene immortalata sulla facciata di una casa e parliamo poi ancora di cronaca sequestrata da mio marito lei funge ma lui nega tutto si tratta di una donna che ha raccontato alle forze dell'ordine anni di maltrattamenti e violenze subiti anche dai parenti del suo ex si tratta di un 32enne l'uomo nato a Fano che è stato portato in giudizio dalla moglie una 26enne di origine macedone con il quale avuto con la quale ha avuto una figlia di 9 anni la donna dice di essere stata segregata in casa dopo la nascita della figlia nel 2013 senza la possibilità alcuna di uscire o di avere contatti con persone diverse dal suo nucleo familiare anche la madre e il fratello dell'uomo che dovranno rispondere di concorso di reato stando al racconto della 26enne avrebbero vessato la donna insultandola in modo continuativo insomma veramente una situazione familiare che dovrà essere chiarita da parte del giudice e poi sotto vediamo la fotografia dell'ex sindaco di Saltara Claudio Uguccioni ex sindaco oggi scrittore ebbene Claudio ha edito un terzo libro un romanzo giallo che parla intitola si intitola il pozzo profondo e parla di un intrigo internazionale che insomma ambientato a Roma ma con risvolti poi di carattere molto più ampio un bel giallo che Claudio con la sua verde scrittore ha pubblicato e quindi merita il successo a Urbino a Urbino ancora in risalto il problema della casa in modo particolare per gli studenti alloggi studenti sempre più rari e troppo costosi un'indagine della will fa emergere la condizione abitativa che sono costretti a vivere gli universitari ci sono universitari che avrebbero diritto di entrare negli alloggi universitari dove ovviamente i prezzi sono più contenuti e invece non gliela fanno e quindi sono costretti a rivolgersi al mercato privato e qui i prezzi sono molto molto alti ecco perché frequentare l'università non è una cosa semplice in modo particolare per quelle famiglie insomma che fanno fatica arrivare alla fine del mese mentre l'istruzione dovrebbe essere alla portata di tutti un problema che l'indagine fatta dalla will solleva in tutta la sua gravità il consiglio regionale vota all'unanimità una mozione per rifinanziare Urbino una mozione che porta la firma del consigliere Giacomo Rossi dei civici Marche firmata anche dal presidente del consiglio Dino Latini e quindi il consiglio regionale ha così rifinanziato la legge speciale per Urbino Montefeltro e a proposito dell'anno che sta per terminare vediamo che si parla di calendari oggi sui giornali c'è un calendario importante che viene da Piobbico un calendario dettato dalla natura è l'autore Massimo Martinelli fotografo d'eccezione che immortala lo spettacolo dei paesaggi appenninici con tutte le atmosfere della bruma del sole della nebbia della neve insomma con tutte le atmosfere che il cielo ci può assegnare e poi vediamo ancora nella pagina degli spettacoli un altro omaggio un altro calendario questa città è da calendario 12 mesi per amare Pesaro presentata l'opera di 11 fotografi che hanno immortalato i vari quartieri di Pesaro venerdì l'inaugurazione e l'evento e dato che abbiamo parlato di Pesaro diamo un'occhiata anche alle pagine pesaresi del resto del Carlino dove vediamo tutti i particolari dell'arresto e del rinvenimento di Federico Marcelli colui che era stato condannato per stupro e che era riuscito a fuggire dagli arresti domiciliari rompendo il braccialetto appunto che ne individuava la posizione lo stupratore e la tana il casolare tra i monti una donna lo ospitava lui coltivava marijuana i carabinieri raccontano come hanno catturato Federico Marcelli ebbene è stata un'indagine complessa un'indagine che ha avuto la collaborazione da Pesaro a tutti coloro che operano nell'Umbria si sono visionate le telecamere lentamente si è ristretta l'area dove poteva essersi rifugiato il Marcelli e alla fine sono stati individuate le frazioni di Cugiano e Pieve di Compresseto compresseto sì del comune di Gualdo Tadino e qui è stata individuata la casa dove si nascondeva Federico Marcelli una casa data in uso da una donna e poi lui aveva anche una tenda nel bosco come nascondiglio visse e lì era arrivato con una fuoristrada che era stata acquistata dalla madre ovviamente lui si è meravigliato perché pensava di essere al sicuro ha chiesto ai carabinieri ma come avete fatto ad individuarmi in questo minuscolo paesino dell'Umbria sepolto tra le campagne insomma nascosto tra le campagne in un luogo molto molto isolato ma in realtà le forze dell'ordine sono riuscite ad individuarlo e quindi ad arrestarlo giriamo la pagina e parliamo ancora di cronaca perché il resto del Carlino ci evidenzia una lite furiosa tra coinquilini parte una coltellata sangue in zona mare un giovane correva in strada nudo con un'evidente emorragia sotto la scella era stato colpito appunto con un coltello non riesco a respirare aveva dichiarato i primi soccorritori portato in caserma quello che divideva la casa con lui il litigio appunto l'accoltellamento è stato frutto di un litigio accaduto ieri sera tra due coinquilini provenienti dalla Somalia e dalla Etiopia con la casa nella zona di Piazzale D'Annunzio zona casco di Valentino insomma nei pressi del mare improvvisamente dei testimoni hanno visto un giovane africano correre in strada a torso nudo con sangue, perdeva sangue appunto dall'ascella giriamo ancora la pagina salvagliamo o soltanto leggendo il titolo di questo articolo Mister Slott e i suoi guadagni Madonna vinceva facile e la fidanzata lo aiutava è stata chiusa l'indagine a carico di un uomo che riusciva a sapere in anticipo quando le macchinette pagavano le slot machine tutti i nomi degli indagati compresa la suocera insomma un marchingenio per truffare appunto anche nel gioco Villa Fastigi risveglio con un ingorgo la rabbia degli automobilisti e dei negozi ebbene c'è la coincidenza dei lavori dell'aumento del traffico siamo in un periodo natalizio dove il traffico aumenta un po' ovunque e questo ha provocato le proteste di coloro che abitano nel quartiere e intanto tornano le toghe d'oro premio agli avvocati iscritti all'ordine da oltre 40 anni il presidente dell'ordine Arturo Pardi ha così segnalato questa iniziativa come una tradizione che è stata rinnovata dopo una lunga pausa l'obiettivo è quello di elevare la competenza dei professionisti si parla appunto di avvocati e fare funzionare meglio il sistema della giustizia che ne avrebbe diciamo così molto bisogno e a questo punto diamo un'occhiata anche al Corriere Adriatico dove l'apertura è dedicata al Teatro Romano oltre 6 milioni per il Teatro Romano e nascerà il polo museale di Vitruvio dopo vent'anni di attesa restauro completo per lo scavo e nuova struttura all'ex Filanda Bosoni nuova struttura sarebbe il museo il museo che dovrebbe nascere dovrebbe essere così concepito secondo un progetto molto molto moderno un progetto che mette in evidenza non solo i reperti che sono stati trovati nell'area del teatro ma anche un museo dell'archeologia perché Fano punta molto appunto su ciò che si nasconde nel suo sottosuolo e che ci sarebbe molto io dico da indagare e poi viene messa in evidenza la stanza magica che è stata inaugurata ieri nella casa Don Tonucci a San Lazzaro la stanza magica per stimolare e offrire benessere che cos'è la stanza magica? è un ambiente dove ci sono molti strumenti e anche delle atmosfere per così sollecitare un certo risveglio un certo risveglio di sensi, di emozioni da parte degli ospiti della casa Don Tonucci non si tratta soltanto di sollecitare funzionalità che sono diminuite appunto per quanto riguarda gli ospiti ma anche alimentare uno stato di benessere in questa stanza ci si trova bene c'è un'atmosfera dolce un'atmosfera serena in modo da così aglietare la permanenza di coloro che soggiornano nella casa di riposo sono ospiti che non soffrono di patologie gravi e dunque possono essere così possono essere suggestionati da questo ambiente adibito allo scopo un ambiente al piano terra a ridosso dell'ingresso che è stato allestito secondo canoni fissati dal metodo di Snow & Zelen fondatore dell'impiego di stimoli sensoriali è orientato a promuovere il rilassamento insomma un po' tra la droga la droga scusate la yoga e la distensione suggerita appunto dalla stessa atmosfera ambientale e questo è stato inaugurato una cosa molto bella alla Don Tonucci la statua del Sant'Arcangelo restaurata dagli studenti ieri si è svolta la festa dell'istituto comprensivo Padalino era anche il compleanno di Giovanni Padalino l'uomo, il medico il medico dei poveri a cui è stato intestato l'istituto ebbene in questa festa i protagonisti veri sono stati gli studenti i quali si sono esibiti in canzoni in performance nel cortile appunto dell'istituto dove è stato inaugurato il restauro della statua di Sant'Arcangelo Sant'Arcangelo è il nome dell'antico collegio la statua una volta era sulla fontana che era stata sistemata alle spalle dell'ingresso principale sul corso dell'ex collegio poi la statua si è rovinata è stata rinvenuta nelle cantine appunto del palazzo è stata restaurata restaurata dagli studenti e con la collaborazione degli studenti dell'istituto d'arte ed un restauratore e appunto questa statua è stata salvata e ora posta in una nicchia nei pressi dell'abside di San Mauro una bella festa a cui hanno partecipato le autorità nella giornata di ieri insieme alla direttrice dell'ufficio provinciale della scuola e poi il sindaco e l'assessore ai servizi educativi insomma le altre autorità e a fondo pagina invece abbiamo un articolo di cronaca di cui abbiamo già parlato moglie e bimbe segregati in casa per anni l'accusato avrebbe avuto la complicità della madre e del fratello e poi parliamo di cantieristica parliamo di cantieristica perché l'anno il 2023 termina con un buon successo per questo settore Nerea Yacht vende due NI40 il gioiello del cantiere fanese Messina qui la filiera nautica è di alta qualità ebbene lo sappiamo benissimo e siamo in conclusione mi rimane soltanto il tempo di segnalarvi questo articolo che proviene da Marotta si parla di viabilità a rischio vicino alle scuole più parcheggi e urgenti modifiche vengono richieste e questo per il momento è tutto a questo punto vi saluto e vi do appuntamento a domani sempre alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci